Salve, benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento che ci vede affrontare l'analisi articolo per articolo di un'importante disposizione per chi opera nella pubblica amministrazione o per chi studia per la preparazione ai concorsi, che è il decreto legislativo 118 del 2011, armonizzazione contabile, o meglio disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, secondo la legge delega 42 del 2009. Cosa faremo durante questo percorso? Analizzeremo articolo per articolo le disposizioni, compresi gli allegati, che non sarà soltanto un commento e un'analisi del testo, ma cercheremo di individuare fuori dal decreto quelle che sono poi le norme di attuazione, la prassi, gli esempi, i provvedimenti, le modifiche. Per ogni volta che ci sarà una norma di attuazione, una modifica, troverete il videocommento relativo. Quindi questo è il programma delle prossime settimane, indicativamente due o tre articoli alla settimana, che ovviamente potrete vedere in diretta e registrati. Troverete poi nel link il riferimento dove trovare la collana completa di questi commenti. Iniziamo quindi da questo articolo zero, l'ho chiamato, cioè l'indice e le premesse. Da cosa deriva questo sistema, questo meccanismo di armonizzazione contabile? Da quale fonte trae la propria origine e la propria ispirazione? Per aiutarci ho utilizzato due documenti, che come detto trovate fra i materiali poi a disposizione, elaborati dalla Camera dei Deputati in occasione dell'approvazione delle norme di attuazione. Questo documento spiega il processo di armonizzazione dei sistemi contabili della PA, quindi non soltanto regioni e denti locali, che è l'oggetto specifico del 118, ma in generale quello che nell'ambito della politica economica e della finanza pubblica è stato il processo di cosiddetta armonizzazione. Vediamo allora i punti salienti. Intanto l'esigenza di armonizzare la contabilità pubblica nasce dal fatto che gli enti pubblici sono nati in momenti e contesti diversi. Spesso non lo si ricordano, non lo si tiene in considerazione, ma gli enti pubblici nascono già nel Medioevo. I primi comuni nascono nell'anno 1000, poi si sviluppano durante tutto il Medioevo, si sviluppano durante il Nascimento, durante la Rivoluzione Francese, durante l'Ottocento. Quando nasce l'Unità d'Italia i comuni erano già organizzati, ed erano organizzati in modo variegato. Con l'Unità d'Italia si tenta la prima uniformità, ma l'Unità d'Italia dà vita poi anche a nuovi organismi, a nuovi enti pubblici, enti pubblici economici, enti pubblici nazionali. All'inizio del Novecento nascono le province, invece alla fine del Novecento nascono e si sviluppano le regioni. Questo sistema ha portato a una varietà di enti, università, camere di commercio, eccetera, eccetera, e una varietà di sistemi contabili, fondamentalmente appartenenti a due grandi famiglie, la contabilità economico-patrimoniale, che è la contabilità tipica delle aziende private, e la contabilità finanziaria, che invece è diventata la contabilità tipica delle organizzazioni pubbliche e territoriali, a partire dallo Stato. Nel 1978, dopo la nascita delle regioni, quando il sistema degli enti pubblici era ormai consolidato, si è cercato con la legge 468 una prima normalizzazione dei bilanci pubblici. Questo era il termine utilizzato dal legislatore. Il processo non andò avanti e siamo arrivati, invece, nel nuovo secolo, con il 2011. Nel 2011 che cosa abbiamo? Abbiamo l'avvio di questo percorso. Prima di questo percorso, già all'inizio del 2000, con la riforma del titolo V, era stata individuata una competenza concorrente da parte dello Stato e delle regioni nella legislazione sull'armonizzazione dei bilanci pubblici. Questa competenza concorrente, ovviamente, creava ostacoli a quel processo di armonizzazione o di normalizzazione dei bilanci. Allora, con la legge costituzionale 1 del 2012, quindi coeva a questo processo, vedremo immediatamente successiva a questo processo, abbiamo il trasferimento della competenza legislativa da quella concorrente a quella esclusiva dello Stato. Poi vedremo i riferimenti costituzionali. Quindi, un processo che nasce come esigenza molti anni prima, ma che trova uno sviluppo rapidissimo nell'arco di due anni si adottano le principali disposizioni in materia anche alla luce di norme comunitarie. la direttiva 85-2011. Quindi, lo Stato italiano, contemporaneamente all'Unione Europea, con la direttiva cosiddetta 6-PAC, interviene per dettare agli Stati membri l'esigenza di adottare regole minime comune per i quadri di bilancio nazionale. Questo anche in un'ottica di conoscibilità dei bilanci pubblici. Ricordiamoci, venivamo da una delle più grandi crisi finanziarie mondiali e quindi l'Unione Europea voleva armonizzare i bilanci degli Stati membri per capire come stava andando la finanza pubblica in modo tale da renderli trasparenti, confrontabili, completi, veritieri. Questi sono i caratteri dei bilanci che si aspettava l'Unione Europea. In che modo? Attraverso una direttiva che imponesse agli Stati membri di imporre alle proprie articolazioni territoriali, poi ogni Stato membro ha caratteristiche diverse, l'Italia è particolarmente parcellizzata, uniformità, regole comuni e procedure contabili uniforme. Per questo il principio di armonizzazione si è sviluppato proprio in quel periodo. Principio di armonizzazione che ha riguardato non soltanto gli enti territoriali, ma le pubbliche amministrazioni in senso lato e quindi ha coinvolto le Camere di Commercio, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliari, gli enti pubblici economici, lo Stato, le regioni, i comuni, anche le regioni a statuto speciale, quindi il processo ha coinvolto anche questi soggetti. Come detto, nel 2012, con la legge costituzionale 1 del 2012, è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio e quindi dettate le nuove regole che l'Unione Europea aveva imposto anche attraverso questa direttiva numero 85. Direttiva a cui è seguita a livello comunitario anche un mandato a Eurostat di verificare l'attuazione di queste disposizioni in parallelo a un percorso che non era soltanto quello di armonizzazione, ma di verifica dei disavanzi eccessivi degli Stati membri. L'Italia è uno di quelli con il principale problema di debito pubblico che faceva riferimento al regolamento 479 del 2009. Quindi l'obiettivo fondamentale è l'eliminazione delle diversità fra i sistemi contabili, alla luce di una serie di criticità che erano state riscontrate. Come detto, è nata da questa riforma che è partita con una legge delega, legge 42 del 2009, a cui sono seguiti decreti legislativi di attuazione. Decreto legislativo 91 del 2011 che ha riguardato lo Stato, le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali e le amministrazioni pubbliche territoriali con il 118. I criteri li abbiamo detti, poi li ritroveremo. I soggetti, la cosiddetta governance del sistema. Intanto l'attuazione viene monitorata tutti gli anni con l'approvazione del DEF, il documento di economia di finanza, e con un rapporto specifico sullo stato di attuazione della riforma della contabilità, e in particolare della contabilità armonizzata. Per quanto riguarda gli enti locali, utilizzo un altro schema, che è sempre redatto dal Centro Studi della Camera dei Deputati, la contabilità armonizzata di regioni ed enti locali, che va più nello specifico del 118. Il 118 ha avviato una riforma che ha visto una fase di sperimentazione. All'inizio doveva essere di due soli esercizi, quindi nel 2013 avrebbe dovuto andare a regime, poi è stata spostata al 2015 e è andata completamente a regime nel 2016-2017. Infatti le tappe sono state un pochino più lunghe, ma sono servite per accogliere alcune delle criticità. Come detto, la direttiva 85-2011, un'ampia organica riforma di contabilità, con regole uniformi, qui le principali innovazioni, fra cui l'introduzione di principi contabili generali ed applicati, fatti propri dall'ordinamento amministrativo e prelevati, presi dall'ordinamento privatistico o dal sistema contabile. Infatti c'è in questo processo di armonizzazione una forte integrazione di questi principi. Entrata in vigore il 1 gennaio 2015, sperimentazione che è stata diretta, supportata, aiutata dalla Commissione Arconet. La Commissione Arconet è una commissione istituita presso il MEF con il compito sia di informare che di formare che di recepire le criticità per poi proporre le soluzioni aggiornate. Tant'è che il pieno regime si ha nel 2016, dopo un anno dall'attività di questa commissione, e, come detto, si è estesa anche alle autonomie speciali, in particolare le due regioni più autonome per eccellenza, la Sicilia e la Sardegna, che hanno recepito, nell'ambito dei propri statuti, questa riforma. Nel 2017, ultima tappa, anche i comuni sotto i 5.000 abitanti, che sono la maggior parte dei comuni, il 70% dei comuni italiani, anche se numericamente minori, hanno avviato il percorso di applicazione pur con delle deroghe, per cui il 118 è stato modificato in varie occasioni, proprio per prevedere delle norme speciali, le troveremo molto spesso, per i comuni sotto i 5.000 abitanti. La Corte dei Conti, dal 2016, ha avviato un processo di indirizzo. Noi troveremo anche numerosi di questi documenti, che sono le linee di indirizzo, che la Corte dei Conti dà agli enti per redigere i bilanci, secondo quelle che sono le nuove disposizioni. Dal punto di vista amministrativo, invece, la palla è passata alla ragioneria generale dello Stato, che molto spesso, soprattutto in occasione dell'approvazione delle leggi di bilancio, dà indicazioni sulla corretta applicazione del sistema di armonizzazione. Chiarito questo quadro introduttivo, andiamo a vedere allora come è fatto il decreto legislativo. Io utilizzerò un testo, che troverete anche sulla piattaforma, con evidenziate, in giallo, verde, in vari colori, le norme più importanti, in modo tale che chi di voi voglia poi di leggere il documento, il testo, diciamo, del 118, sono 500 pagine, quindi è molto lungo, quindi saranno letture e approfondimenti intensi, per cui, se uno si vuole soffermare sui punti essenziali, troverà la versione aggiornata, che è quella che normalmente vi proietto durante questi commenti. Decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Quindi, campo di applicazione, oggettivo, sistemi contabili, schemi di bilancio. Soggettivo, regioni, enti locali e organismi di entrambi. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 42 2009, che è la legge delega, questo è un decreto legislativo attuativo di una legge delega, a sua volta, diciamo, parallela, non è frutta della direttiva, perché l'Italia era già arrivata prima dell'approvazione della direttiva, ma, che terrà conto, vedremo anche della direttiva comunitaria. Il Presidente della Repubblica, visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione. Andiamoli a vedere questi articoli. Che cosa ci dicono? Il 76, molto semplicemente, ci parla del decreto legislativo, quindi il decreto legislativo è l'atto del governo che, da attuazione, ha una legge delega. L'articolo 87 ci dice che il Presidente della Repubblica adotta i DPR, adotta i decreti legislativi, quindi emane i decreti aventi valori di legge, ed è per questo lo troviamo dalla forma del decreto legislativo. Il 117, invece, ci introduce il tema dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. Lo Stato ha legislazione esclusiva relativamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici. Questo è importante, per cui noi non troveremo leggi regionali di attuazione di queste disposizioni. Legge delega, decreto legislativo. Punto. Altri provvedimenti dello Stato. Questo fa sì che lo Stato possa adottare anche le relative norme di attuazione. Questo fa sì che anche gli aspetti legati alle circolari, alle note, alle note di chiarimento, alle linee guida, siano tutte di livello statale. Questo semplifica, ovviamente, armonizzare con 20 regioni e 8.000 comuni sarebbe stato impossibile, quindi una forte centralizzazione da parte dello Stato. Ricordiamoci, però, che è rimasta, per quanto riguarda la materia concorrente, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, quindi l'armonizzazione di competenza esclusiva statale, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, invece, è legislazione concorrente, per cui troveremo provvedimenti delle regioni che coordinano la finanza pubblica a livello regionale o che coordinano il sistema tributario a livello regionale, ma non possono dettare disposizioni di armonizzazione, quindi doppia, diciamo, tipologia di norme. Noi, in questo videocommento, ci occupiamo soltanto della prima parte delle norme di armonizzazione. Ultima norma citata, l'articolo 119. L'articolo 119, al comma 2, ci dice i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni, i soggetti che riguardano il 118 hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, quella materia che è di legislazione concorrente. Quindi, il 119 che richiama l'autonomia finanziaria degli enti locali, non richiama il tema dell'armonizzazione perché nel 117 però richiama anche il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Quindi, stato armonizzazione, stato e regioni, coordinamento della finanza pubblica, enti locali devono rispettare ovviamente tutte e due queste disposizioni. Come detto, tutto nasce dalla legge delega, legge delega 42 del 2009, delega al governo in materia di federalismo fiscale. Quindi, l'oggetto di questa delega non era soltanto l'armonizzazione ma l'introduzione di un complesso sistema nel quale passare da un sistema di finanza derivata ad un sistema di finanza locale federale. il sistema non è andato in porto, diciamo, si è concluso per quanto riguarda il federalismo fiscale abbastanza presto, mentre è proseguito relativamente all'armonizzazione dei sistemi contabili. Quindi, delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 assicurando autonomia di entrate e di spesa comuni, province, città metropolitane regione garantendo i principi di solidarietà e coesione sociale in maniera da sostituire gradualmente per tutti i livelli di governo il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione secondo quanto previsto dalla Costituzione. Articolo 1 e articolo 2 di questa disposizione prevedono appunto poi il sistema di delega al governo, vedete, il governo è delegato ad adottare entro 30 mesi dalla data entrata in vigore della legge 1 più decreti legislativi per assicurare attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento di finanze e del sistema tributario la perequazione l'autonomia finanziaria eccetera eccetera e qui ci sono i principi e i criteri direttivi della delega sulla base della quale poi abbiamo la nascita del decreto legislativo 118 quindi vi invito ovviamente a rileggere almeno gli articoli 1 e 2 della legge 42 del 2009 come detto il sistema di armonizzazione è andato in due grandi direzioni da un lato nella riforma anche della contabilità di stato la legge 196 2009 da leggere integralmente è la legge di contabilità e finanza pubblica quindi cosa è successo 2009 lo stato nell'ambito della legislazione esclusiva delega al governo a riformare la contabilità delle regioni e degli enti locali in un processo che abbiamo visto è durato un quinquennio ma contemporaneamente riforma la propria contabilità la legge 196 2009 riforma la contabilità di stato quindi lo stato ovviamente detta le norme sulla base delle quali poi effettuare l'armonizzazione armonizzazione significa fare in modo che un sistema ma si avvicini ad un altro se non ho la pietra di paragone ovviamente non posso fare l'armonizzazione quindi in primo luogo si è intervenuti con lo stato già con la legge 196 e poi si è intervenuti con tutti gli altri atti pubblici statali e non statali bene andiamo allora a questo punto a vedere avanti nelle premesse quindi il presidente della repubblica visti questi articoli della costituzione vista la legge 42 del 2009 recante ed elega al governo in materia del federalismo fiscale in attenzione del 119 e in particolare l'articolo 2 comma 1 e comma 2 lettera H che contiene i principi e i criteri direttivi andiamo a vedere comma 2 articolo 2 comma 1 eccolo qua articolo 2 comma 1 il governo è delegato emanare coordinamento e la lettera H adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato comuni schemi di bilancio articolati in missione e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale regolamenti conti satelliti bilancio consolidato con le aziende società organismi controllati secondo uno schema comune affiancamento affiancamento a fini conoscitivi al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di schemi di contabilità economico patrimoniale ispirati ai criteri di contabilizzazione raccordabilità dei sistemi contabili degli schemi di bilancio tutti i concetti che poi vedremo nel dettaglio si trasformano in specifici istituti giuridici definizione di una tassonomia un dizionario per la riclassificazione dei dati contabili di bilancio per le amministrazioni pubbliche definizione di un sistema di indicatori di risultato semplice misurabile riferibile ai programmi di bilancio questo è l'oggetto fondamentale della delega andiamo avanti vista la legge 196 del 2009 in particolare l'articolo 1,4 e il 2,6 e le andiamo a vedere 1,4 eccolo qua le disposizioni recate alla legge dei relativi decreti di risultato costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e quindi inderogabili e applicabili anche alle regioni a statuto speciale e vediamo il 2,6 eccolo qua alla legge 42 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni adozione delle regole uniformi quindi la legge 196 come detto è la prima che ha introdotto le disposizioni valevoli per lo Stato e contemporaneamente ha aggiornato la legge 42 del 2009 vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri i decreti legislativi compreso questo hanno un iter abbastanza articolato perché abbiamo la legge delega quindi tutto l'iter parlamentare di approvazione della legge delega dopo la legge delega abbiamo il governo che inizia a lavorare sul testo per poter sottoporre un testo ufficiale alle parti sociali ai soggetti da coinvolgere nel processo di approvazione questo testo deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri e quindi abbiamo una prima delibera di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 abbastanza rapida a meno di un anno questa delibera approva una bozza di DPR una bozza di decreto legislativo che viene inviato in questo caso vedete punto successivo alla conferenza unificata perché perché è una materia sebbene di legislazione esclusiva l'armonizzazione è anche di legislazione concorrente e quindi deve essere deve passare dal sistema di leale collaborazione dal sistema delle conferenze e quindi la conferenza unificata ha espresso il 3 marzo 2011 un parere nel rapporto governo parlamento per verificare che siano rispettati i criteri della legge delega il testo della delibera del Consiglio dei Ministri passa anche in una particolare commissione parlamentare che è stata istituita con la legge 42 che è la commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo amministrativo e poi per le competenti altre commissioni parlamentari che hanno espresso il loro parere infine vedete il documento modificato eventualmente alla luce di questi pareri torna in Consiglio dei Ministri sei mesi dopo a giugno del 2011 è tornato in Consiglio dei Ministri ed è diventato il decreto legislativo 118 in questo primo diciamo momento di presentazione vi voglio soltanto illustrare l'indice del decreto quello che ci aspetta come detto faremo il commento articolo per articolo che non sarà soltanto la lettura degli articoli alcuni di questi molto lunghi ma anche di ciò che è fuori dal decreto 118 quindi tutto ciò che è stata la relativa attuazione esempi di atti modelli e quant'altro partiamo dalla struttura in titoli titolo primo principi contabili generali ed applicati iniziamo a utilizzare questi termini quindi vengono introdotti dei principi contabili distinti in due grandi famiglie quelli generali cosiddetti postulati e quelli applicati cioè più concreti più operativi più amministrativi per chi regioni provincia autonoma di Trento e Bolzano e enti locali quindi il titolo primo riguarda tutte e due queste tipologie di soggetti enti territoriali ed è forse la parte più importante è quella che descrive l'oggetto i sistemi contabili omogenei i principi che cos'è il piano dei conti integrato che cos'è il siope come sono fatti i bilanci di previsione gli schemi di bilancio eccetera eccetera poi vedete ci sono dei bis dei ter dei quater perché il decreto è stato modificato poi successivamente i criteri per la classificazione delle entrate delle spese i termini di approvazione del bilancio quindi abbiamo anche la gestione procedurale la tempistica e gli indicatori di bilancio l'ossatura fondamentale del decreto il titolo secondo invece che faremo anche quello è dedicato ai principi contabili generali applicabili per il settore sanitario perché il mondo soprattutto delle regioni è principalmente il mondo della sanità l'ottanta per cento del bilancio regionale e della gestione finanziaria regionale ruota intorno alla sanità che drena gran parte delle risorse pubbliche e quindi gli è dedicato un capitolo particolare anche perché il mondo della sanità viene da una contabilità diversa da quella regionale mentre le regioni hanno una contabilità finanziaria le regioni nascono negli anni settanta almeno quelle sono tutto ordinario e quindi ereditano la contabilità dello Stato e quella degli enti territoriali la sanità invece nasce molto prima nasce in un contesto privatistico e poi pubblicizzata ma nasce in un contesto privatistico e quindi ha una contabilità aziendale le aziende sanitarie ha una contabilità economico patrimoniale e quindi l'armonizzazione in questo mondo nel settore sanitario è ancora più importante quindi lo vedremo nel dettaglio nel commento degli articoli del titolo secondo il titolo terzo invece è dedicato esclusivamente alle regioni quindi titolo primo norme comuni fra regioni ed enti locali cioè enti a contabilità finanziaria titolo secondo sanità cioè enti a contabilità economico patrimoniale titolo terzo approfondimento sulle regioni distinto dalla disciplina degli enti locali e quindi abbiamo gli istituti classici della contabilità regionale titolo quarto adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale quindi le norme che consentono dopo quella sperimentazione il passaggio al sistema definitivo il titolo quinto classico disposizioni finali e transitori che appunto entra nel dettaglio della sperimentazione delle disposizioni sulle regioni a statuto speciale che hanno una disciplina loro propria le disposizioni finali e l'entrata in vigore per chiudere con tutta una serie di allegati che come detto commenteremo specificamente che riguardano appunto i principi riguardano gli schemi di bilancio riguardano tutta una serie di documenti sono il numero arriva al 17 ma in realtà sono una trentina di allegati vedete il 4 4-1 4-2 4-3 4-4 alcuni più importanti alcuni di numerose pagine alcuni di questi allegati hanno più facile del testo normativo che anche in questo caso come detto analizzeremo nel dettaglio bene siamo arrivati alla conclusione di questa prima presentazione dalla prossima volta partiamo con l'articolo 1 e con il commento appunto specifico e dettagliato io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima occasione arrivederci ciao